buonasera a tutti buona vigilia buona buona vigilia di natale Muffelcone qui sono facendo l'ultima diretta prima di natale spero che state bene io so discretamente ora come vedete vi sono sbarbato ho detto ero dal mio amico Mauro Marzon più grande parrucchiere di Muffelcone ma anche tutti gli altri bravi parrucchieri sono tutti bravi perfetti professionali spero che state bene vi auguro una buona serata divertitevi mangiate poco mi raccomando che no le stirate su la ciccia boh scarto e che dire come dico boh sono qui nel villaggio di Natale Muffelcone piccole neve sono poche baracchette purtroppo tanti stanno chiudendo perché è troppo freddo di noi è tanto freddo è tanto umidità perché ha piovuto adesso se sembra freddo sarebbe la piccola pioggia fa venire la neve ma fortuna non è venuta adesso si va in carso in corso che c'è la speciale emergency per gli auguri altro niente fate i bravi iscrivetevi al mio canale fatemi fate un regalo di Natale fatevi arrivare al minimo cento persone per favore fate conoscere i vostri amici amiche vostre madri genitori tutti tutti nonne sorelle amanti eccetera eccetera boh saluto il dottor Nadir Malizia carissimo amico saluto Tiziano di Corizia saluto Marco di Quadri lo saluto sotto i miei colleghi di lavoro e i miei amici che erano presenti erano presenti erano presenti nella scuola dove lavoravo amici miei tutti vi voglio bene scrivete Franco Tondo su YouTube mi raccomando fatemi felice dite quando arrivo apro gli occhi 100 persone wow non pretendo arrivare milioni ma così gli occhi piccoli vedete che ho dormito poco stanotte peccato tutto chiuso adesso faccio vedere un qualcosa qua c'è la stella da dove parlavo adesso c'è l'albero di Natale vicino c'è anche la pista di ghiaccio ma perché c'è troppa gente a paura della private mi dico oh cosa fai e così adesso arrivo qui vado cammino un poco con voi spero che state bene non sto discretamente meno male che non c'è nebbia non c'è neve perché sennò c'era la neve era dura qua i gatti di boffet con al chiuso peccato lo stand oggi perché sennò facevo vedere lo stand ecco qua il pulmine che porta a far vedere la città il zona centro ecco qui qui il carnet facciamo vedere le fontane i vari colori però reagite dai tu ciao morizio come stai ti auguro buona natale a te la tua famiglia spero che sei bene io sono esattamente stasera non vado a messa di mezzanotte ma il duomo c'è che nelle varie chiese la città la fanno ecco quei colori qui ecco del villaggio natale ma purtroppo il spoglio non è tanto il movimento non c'è e vabbè meglio così chi è la seconda persona che mi saluta e vabbè amici miei i vari colori vedete che bella sempre più grande più lunghi qui il popolcone si prepara il natale pian pianino scende giù con i colori di colori saluto valentino taxi numero uno numero quattro numero di tutti ciao ivo benvenuti auguri buon natale a te la tua famiglia ricordiamo anche il dottor cipuca valdr cipuca che non c'è più ma meno soccorso sempre crescimo walter dalla sua guarda città è stati vicino soprattutto la questa giunta che ha bisogno di te di tutto il supporto della sua ma andrà che deve buon palcone è cambiata il meglio per me ma anche boh non facciamo politica parliamo nel dettaglio adesso gli auguro una buona giornata una serata fate i bravi iscrivete il franco torno su youtube vi raccomando fatevi arrivare minimo 100 quest'anno non pretendo arrivare milioni mi piace contento così ho avuto un bel progetto in corso e in futuro prenderò la gopro qualche cosa così farò qualcosa di rete di cucina che cosa e poi a gennaio mi devono chiamare per una cosa e spero che se va in porto non spolverò altro perché sennò non si può dire perché sennò dopo porta spiega boh amici miei buona giornata un abbraccio forte vi voglio bene grazie ancora essere presenti sempre nel mio canale supportatemi iscrivetevi mi raccomando fatemi 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 conoscere alle varie persone vi auguro un buon natale alla vostra famiglie vostri amici qui adesso è partito ciao ieri un abbraccio forte una bacione a te e un bacione anche al tuo fidanzato salutamelo e a michele è così e lì anche samuele porta i saluti i saluti miei mi fai piacere adesso sto andando verso il caso in corso prima che faccia un patatrac ve lo vedo mi fermo qui c'è il natale qua c'è purtroppo babbo natale la lette babbo natale chiediamo babbo basan non c'è se qualcosa invece per i bambini c'è il villaggio natale l'hanno visto spiegato purtroppo poche persone ma anche niente oggi così la mettete insetti quel municipio addobbato natale lassù vediamo se riesco a fare c'è la rocca con la sacra natività spero che si veda sì ok meno male è così qua c'è le renne adesso è così amici miei i vari locali purtroppo ecco da lontano vi faccio vedere abbiamo anche la pista del ghiaccio purtroppo qua falcone non si fa la coppa della quello della carlin brisiac ma non si fa e boh ora vi auguro una buona serata fatti bravi mi raccomando vedete vedete c'è la pista ora vi auguro una buona serata vi lascio vi auguro fatti i bravi mi raccomando e vi saluto vi auguro buona serata andate a messa mi raccomando a mezzanotte tutti lì a vedere la nostra signora Gesù che nasce saluto anche come si chiama tutti i prenditori che lavorano ti ringraziamo da città in falcone e così qua sono le bottiglie del bottone una volta era la marceria il bottone ok qua adesso qua vediamo ancora un saluto di qua ecco qui l'altra parte vede che grande la pista buon amici miei vi auguro vi auguro un momento che faccio di là di nuovo ok ti auguro buona serata un abbraccio a tutti vi voglio bene grande abbraccio a tutti vi fate infatti i bravi benvenuti restate sani sotto dario augusto quarto e tutti i youtuber che seguo spero che un giorno riuscire a fare una bella chiacchierata con dario augusto quarto per avere una persona ve lo saluto che ogni tanto ci iscriviamo un abbraccio anche marco valleghi anche lui vorrei conoscerlo saluto antonella di nardini santa e rocai per snos e tutte le persone che conosco vi auguro buon natale buon divertimento fatti i bravi e che dire che freddo che fa facciamo ancora vedere che c'è il babbo natale qua che non l'ho visto prima adesso vediamo di nuovo questo babbo natale che non l'ho visto ancora c'è babbo natale coi doni quella zetta sono qui con i bambini faccio vedere da lontano non è stato vicino ecco vedete è così boh amici miei buona serata fatti i bravi ricomando restate sani fatti vi voglio bene e grazie ancora buone feste a presto iscrivetevi ciao a tutti ciao silva e tutti voi faccione ciao iscrivetevi mi raccomando